Super lavoro per i vigili del fuoco dopo che forte vento, fulmini e grandinate scatenate dal temporale che questa mattina ha interessato la marca hanno provocato blackout, danni e allagamenti. Disagio a Treviso dove in poche ore è caduta la quantità d'acqua pari un'intera giornata di pioggia. In via Botteniga i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un albero di 12 metri in parte squarciato da un fulmine e qui i rami rischiavano di cadere su un'abitazione. Danneggiate dal maltempo anche alcune piante nei pressi di Porta Santi Quarante alle scuole dei Amicis. Hanno richiesto l'intervento dei vigili anche alcuni alberi pericolanti a Ponte di Piave e Resana. A Villorba, prima un fulmine su una cabina elettrica, poi il danneggiamento di un cavo, hanno causato dei blackout risolti in qualche decina di minuti. A Casieri invece ha creato allarme un albero caduto in una proprietà privata, tranciando un cavo dell'energia elettrica e causando un blackout di quartiere che ha coinvolto anche un'azienda, la cui produzione si è dovuta interrompere. Subito intervenuti i carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i tecnici della rete elettrica. Alle nove e mezza? No, no, noi abbiamo riscontrato solo l'interruzione della corrente e basta. Sa per caso quando riprenderà la corrente? Non lo so, bisogna sentire loro, penso che ci vorrà un giorno o due per la riparazione, perché c'è il canale di mezzo e per cui penso che le operazioni siano un po' più complicate per ripristinare la linea. Quindi oggi la giornata è persa? Sì, sempre che non ci attivino subito il gruppo. Le intense precipitazioni hanno provocato anche allagamenti a Treviso e San Viaggio di Callalta, tutti di lieve entità. Grazie. 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 Grazie.